Valutare le prestazioni sanitarie degli ospedali e le capacità dei manager. Così l'europarlamentare PDL Enzo Rivellino ha illustrato all'ordine dei medici a Napoli un progetto di mini riforma del settore denominato spread sanitario. Intervenuti tra gli altri il presidente dell'associazione Sana Sanità Bruno Amato, il subcommissario del settore Mario Morlacco, nonché dirigenti delle aziende sanitarie del comparto universitario. Con Rivellini presenti il consigliere regionale Bianca D'Angelo.